Radio Radicale, siamo con l'On. Pizzimenti della Lega, che tra l'altro poi è stato anche assessore regionale in Friuli Venezia, Giulia, per parlare con lui delle dimissioni di Toti. Allora che erano attese, erano nell'aria, si sapeva che probabilmente Toti avrebbe lasciato, come tutti sanno, Toti ai domiciliari da maggio. E insomma si era capito che se avesse dato le dimissioni sarebbe uscito dai domiciliari. Adesso vedremo che cosa succederà. I riesami li aveva bocciati. Allora qual è la sua valutazione? Ho visto che voi della Lega siete stati molto duri su questa vicenda. È una vicenda, io direi, drammatica dal punto di vista personale per Toti. Dal punto di vista politico è chiaro che non poteva continuare in queste condizioni. L'amministrazione in generale della regione, perché è difficile con presidente agli arresti domiciliari. La valutazione è che non si può mettere agli arresti domiciliari, per certe valutazioni fatte dalla magistratura, a questi livelli qua, quando ci sono molti altri casi, molto più, diciamo così, importanti dal punto di vista penale, eccetera, e non solo, in cui invece si è liberi di circolare tranquillamente. Per cui è stata fatta una, diciamo così, un'attenzione molto particolare verso il presidente Toti. Certo. Che lei si ricordi, insomma, un caso del genere, non era mai capitato, insomma, che lo scioglimento di un'assemblea regionale divendesse dalla magistratura. Questo è un dato di fatto, nel senso che poi andremo a vedere come va a finire il processo delle tre fasi, però che uno deve dimettersi e quindi che la magistratura fa dimettere di fatto un presidente della regione, ancora prima che venga condannato, mi pare che siamo ai limiti di tutto quello che è una struttura dello Stato, cioè di tre gradi di giudizio e non solo, ma anche tra legislatore, tra magistratura e tra, ovviamente, com'è. Sì. Cosa ne pensava della manifestazione che aveva fatto la scorsa settimana il centrosinistra a Genova per chiedere le dimissioni di Toti? Ci sono andati Fratoianni, Bonelli, La Schlein. Ma è chiaro che loro fanno quello che di solito fa una migliorata, però anche in questo caso, mi pare, visto che loro sono sempre garantisti, almeno sulle parole, poi in realtà nei fatti non lo sono. Sì. Pensa che questa vicenda sia ancora poco chiara, perché abbiamo visto che sono uscite intercettazioni, c'erano stati i titoli dei giornali, per esempio, io mi ricordo un titolo che mi è rimasto impresso, che Toti era andato a Monte Carlo, aveva mangiato e non aveva pagato, che non credo sia un reato a occhio e croce. No, spero di no, perché se no più di qualcuno... Dovremmo andare tutti in galera se ci hanno offerto un pranzo, non a Monte Carlo, ma da qualche parte. Più di qualcuno rischerebbe, quanto meno, no? Però, insomma, se siamo a questi livelli qua, anche per un pranzo, poi bisogna magari fare la distinzione se mangia primo o secondo, oppure secondo, magari e basta. Cioè siamo al limite, veramente dell'indecenza, secondo me. Va bene. La ringrazio della sua disponibilità, ringrazio l'onorevole pizzimenti della Lega, con il quale abbiamo parlato delle dimissioni del governatore della Liguria, Toti. Grazie. Grazie a voi.